Una diatriba che va avanti da quasi 20 anni e che vede contrapposti due cittadini. Siamo a Grumento Nova, piccolo centro della Val d'Agri, all'origine della discussione che ha prodata anche in tribunale alcuni lavori eseguiti dal proprietario di un bar-ristorante, il quale avrebbe ampliato il portone d'ingresso del locale, a mettere sotto accusa il tutto il proprietario dell'immobile adiacente. Si lamenta praticamente che è stato concesso da una porta di un metro e venti negli anni precedenti, è stata allargata a circa un metro e ottante. Non contente ancora, non paghi a tre metri, misurate col metro, quanto è il portone, facendo danni togliendo il supporto all'altra abitazione contigo, cioè alla mia abitazione. Il proprietario del locale commerciale spiega di aver avuto tutte le autorizzazioni ad eseguire i lavori, fino anche ai pareri favorevoli della soprintendenza e beni artistici d'architettonici della Basilicata, in quanto si tratta di parte del castello San Severino, sottoposto a vincoli. Intanto il Tribunale di Potenza si è espresso con una sentenza che ha ordinato al titolare del bar-ristorante di ripristinare la situazione preesistente, solo che l'esecuzione della sentenza viene rinviata da mesi e mesi. Certamente viene rinviata perché ci sono dei presupposti di misera condizione umana, In sostanza? Eh, non lo so, si può immaginare. Quella cosa...